E comunque a casa ho cosciali, gambali, manicotti. No, sopra sono ben messo. Solo che chi è che pensava di trovare un clima così? Mai più, non me l'immaginavo. Ho portato solo il coppio di stacca per la pioggia. Perché pensavo che, come è, era prevista anti-pioggia. Allora, devo andare insieme a una palla. Mentre invece, devo stare indietro? Ah, fai quello che vuoi. Ah, salita! Ah, cambiare! Ah, io! 1836. 136. Sì! 1836. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.